Mi scusi signorina, ma come si permette di andare in giro nuda? Perché? Non vedo nessun cartello che dice che è vietato. Ma non mi prenda in giro, lei lo sa benissimo che in hotel non è possibile. È una questione di educazione. Educazione? Dipende da dove uno è cresciuto. Con le teste vuote è inutile parlare. Grazie a tutti.